Può una collina avere gli occhi? Un po' strana come domanda, non c'è che dire, ma venite con me, si parte. E oggi andremo alla scoperta di un luogo un po' particolare. Ci stiamo arrivando proprio in questo momento, una breve passeggiata che con questo sole è quel che ci vuole e arriviamo. Il sentiero sale dolcemente, un corridoio tra le siepi ci conduce ai margini del bosco. Siamo sul versante nord del montello. Dietro di noi laggiù il piave, acqua che scorre, pietre, grotte, ma noi oggi non navighiamo. Continuiamo invece a salire. Uno spiazzo d'erba verdissima, una colonna enorme di granito chiaro. Negli anni trenta fu portata qui una colonna romana per celebrare il sacrificio, la guerra sul piave. Una colonna antica avvolta nella pietra e quel volto severo che scruterà al greto del fiume per sempre. Occhi, i miei cadono su un cavallo a caccia dei germogli più freschi. L'animale sembra rendere eterna la quiete di questi attimi. Mi giro a valle, ali di pietra pronte a spiccare il volo. I nomi incisi di chi non c'è più. Generale Giuseppe Vaccari, generale Enrico Caviglia e un re. Un re, re Vittorio Emanuele III che proprio da quassù scrutava le fasi cruciali della battaglia sul piave. Eh sì, gli occhi del re, gli occhi dei generali verso il fronte, laggiù, sul piave. Noi invece ci spostiamo ancora più in su. Ci facciamo inghiottire dall'osservatorio del re. Esploriamo curiosi lo stretto corridoio, una scala. Eccoli qui, gli occhi della collina. Da queste feritoie si coglie ogni particolare, si domina l'intera valle, si sta nascosti al sicuro da sguardi indiscreti. Ma allora è vero che le colline hanno gli occhi? Credo di sì, e ci vedono molto bene. Mi muovo con prudenza nell'oscurità, tra i soffitti bassi, i varchi. Respiro la storia. Il sole di settembre è capace ancora di accecarmi. Dona alla natura colori unici. L'aria fresca, i ricordi. Da cent'anni non si sentono più i colpi dei mortai e nemmeno le urla dei soldati caduti. Nessuna nube di fumo, nessun dolore. Imbocchiamo il sentiero in leggera discesa, ci godiamo i raggi delle sei di sera. Il silenzio, l'autunno che ci avverte che è arrivato. Un'ultima occhiata attorno, ci sentiamo osservati. Questa collina ha gli occhi, ora lo sappiamo. Ci guarda. Le feritoie, l'osservatorio, gli occhi dei generali, gli occhi del re. E noi che scivoliamo a valle, tra le siepi di quel corridoio verdissimo. E anche per oggi direi che è tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime novità. E noi ci vediamo presto, dove ovviamente è sempre qui all'interno del nostro canale. Ciao ragazzi!